Padre Raffaele è una persona che guarda il piccolo, non guarda le grandi cose. Negli ultimi tempi ha creato molti posti di lavoro per molte persone. È un'unica liturgia che parte la mattina sull'altare e che poi durante la giornata raggiunge le case e le esigenze di tutti. Mi ha fatto capire che se vuoi puoi sbocciare ovunque. Puoi sostenere Don Raffaele e altri 32.000 sacerdoti che ogni giorno dedicano il loro tempo a chi ha bisogno, anche a te.